Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico congestionato si registrano 6 km di coda tra Roncobilaccio e Calenzano VI Fiorentino in direzione Roma. A causa del traffico intenso code a tratti in direzione Roma tra Firenze in Pruneta e in Cisaregello e in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante del Valico. Code a tratti anche sulla variante del Valico tra il Bivio con la Panoramica e Aglio in direzione Roma. Uno sguardo alla FIPI lì dove a causa di lavori si segnalano 2 km di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, un chilometro di coda invece in direzione Firenze. Un chilometro di coda ma a causa di un incidente in direzione Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Val d'Arno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!